Con la posa della prima pietra alvia il cantiere nel borgo di Castelnuovo d'Avane che si trova nel comune di Cavriglia. Il borgo è vincitore del bando dei 20 borghi voluto dal Ministero della Cultura e dunque entro il 2026 diverrà un centro di creatività. Sarà interamente ristrutturato e ripopolato. Oggi è la posa della prima pietra ed è un giorno importantissimo perché viene fatta la messa in sicurezza. Di tutte le case che sono pericolanti e stanno per cadere. Senza questa operazione di messa in sicurezza non si può iniziare l'opera di restauro perché alcuni luoghi, alcuni edifici sono addirittura non visitabili. Noi abbiamo già prontato tutta la parte dei progetti esecutivi e quindi ci auguriamo che a brevissimo, entro il 2026, la prima parte del borgo trovi il compimento, trovi la sua parte di restauro e poi i lavori continueranno negli anni. Castelnuovo Davane è considerato da sempre un luogo deputato alla memoria delle ferite che la popolazione qui ha subito nel dopoguerra. È stato infatti teatro dell'Ecidio avvenuto il 4 luglio del 1944, 74 le vittime, 192 nell'intero territorio comunale. C'è una sorta di risarcimento morale verso le sofferenze che questa comunità nel corso degli anni ha subito e si apre una fase nuova. Si apre una fase nella quale da oggi in poi saranno messi a terra tutti quei provvedimenti per andare a fare la gara di evidenza pubblica europea per individuare poi davvero il soggetto che attuerà l'intervento complessivo di recupero del borgo di Castelnuovo Davane.